Michele Celeghin, coordinatore della città metropolitana di Venezia di Forza Italia. Siamo qui a Portuguaro, nella piazza del municipio, per capire da lei che rappresenta Forza Italia cosa farà Forza Italia nelle prossime campagne elettorale comunale qui a Portuguaro, presumibilmente a settembre perché non si sa ancora proprio esattamente la data. Ci puoi spiegare qual è la posizione di Forza Italia? Forza Italia innanzitutto è un partito che è vicino alla gente e lavora per la gente. Questo lo dico per sgombrare subito il campo dal fatto che ci possano essere giochi politici piuttosto che accordi che vanno al di là dell'interesse prioritario dei cittadini. A questo noi crediamo e a questo è proteso il nostro lavoro. Su Portuguaro devo dire che la situazione è attualmente in una fase di evoluzione che vede Forza Italia, la Lega e i fratelli d'Italia che stanno cercando ovviamente di trovare una soluzione unitaria. Qui le ipotesi che si fanno sono sostanzialmente due, senza girarci tanto attorno perché non sono abituato a girare attorno ai discorsi. O si trova un candidato unitario, per cui chiaramente forte e autorevole, che possa competere con il centro-sinistra o nel caso in cui questo candidato unitario per vari motivi, soprattutto per elementi territoriali, non dovesse emergere è evidente che si svolgeranno una sorta di primarie nel territorio dove i cittadini portogruaresi decideranno quale dei due candidati dovesse sfidare al ballottaggio il candidato del centro-sinistra. Detto questo, stiamo lavorando in una direzione il più possibile unitaria. Stiamo ovviamente facendolo da provinciali, ma con i giusti contatti nel territorio con i quali ci confrontiamo e stiamo confrontandoci in questi giorni. Abbiamo chiuso un accordo e su questo evidentemente intendo e intendiamo rispettarlo fino in fondo che è quello che qualsiasi sia la scelta che verrà intrapresa faremo una conferenza stampa, un comunicato stampa unitario con gli amici della Lega e gli amici di Fratelli d'Italia. Perché? Perché il dialogo c'è stato, c'è e ci sarà anche per il futuro. E questo nell'esclusivo interesse di Portogruaro e dei portogruaresi. Ripeto, gli accordi si fanno in due, in tre. Portogruaro ha anche una sua particolarità. Io penso a cinque anni fa e alle numerosissime liste civiche che si sono poi presentate in questo territorio per il governo della città di Portogruaro, che è una città importantissima. Devo dire che anche questa volta sembra che le iniziative civiche siano presenti. E questo non vuol dire sminuire l'iniziativa civica, anzi l'iniziativa civica è un'iniziativa che va valorizzata. Però sappiamo che l'asse portante del centro-destra sono questi tre partiti. Questi tre partiti insieme hanno vinto e vincono nelle varie municipalità e in questa direzione noi continueremo a lavorare in questo e nei prossimi giorni. Io sono certo che la prossima settimana avremo delle novità da poter rappresentare a tutti.